Sono corrette le proteste civili e ringrazio le persone che protestano in maniera civile. Non posso ringraziare, caro David, chi ancora fa speculazione politica su questo dramma. Come se questo dramma fosse legato a colpe di una parte politica o dell'altra, sia chiaro. Questo è imbarazzante in un momento del genere, David, perché dovrebbe essere il momento dell'unità. Capisco tutto, capisco le cose di parte. Sì, Mirta, prego, dì. Facevi giornalista come me fino a poco tempo fa ed eri un giornalista onesto intellettualmente. Ti prego, leggi il pezzo di Tonacci su Repubblica, leggi quell'imprenditore romano, quel ristoratore romano che peraltro io conosco, un ristorante che conosco, che racconta i 5 euro sul conto corrente in acconto su maggio. I soldi di giugno non arrivano, un suo dipendente è 2,80 euro. L'Inps è un punto, perché tu scrivi l'Inps, ma leggi, pubblica amministrazione, dobbiamo far arrivare i soldi su tutti i correnti. Se andiamo avanti così, la gente impazzisce, te lo dico. Scusa, Gianluzzo, arrivo subito. No, 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 scusami. Così rispondi immediatamente, perché sta per arrivare il signore dei 5 euro, che ha evocato giustamente Mirta. Giustamente parleremo con questo signore. Mi auguro che i 5 euro siano solo un'ultima rata, perché se il ristoro è stato di 5 euro è un problema. I ristori chiaramente saranno, lo dico subito, anche quelli che arrivano adesso, che spero arrivino più presto, saranno calcolati in base al reddito dichiarato da queste attività. Perché anche questa cosa qui è giusto così, naturalmente. Perché se uno ha dichiarato totte, non può poi pretendere il triplo di totte, perché allora forse c'è qualcosa che non va. Però, proprio perché sono un giornalista, ero un giornalista, ti ringrazio per avermi definito corretto e scrupoloso, io ti dico anche che ci sono delle persone all'interno di questo dramma che si approfittano di questo. Innanzitutto l'Inps ha, purtroppo, in situazione di emergenza, erogato prestazioni che eroga in circa 9 anni, normalmente. Le erogate in meno di un anno. E questa non è la cosa più semplice del mondo. Non pensate che l'Inps improvvisamente possa fare 10 volte il lavoro che fanno, ma dobbiamo semplificare tutto. E tutto va bene. Sì, certo, andiamo a semplificare tutto. Però a proposito di correttezza, io qui in questo programma mi sono incontrato più volte con un ristoratore che era molto arrabbiato e che mi attaccava, mi ha detto che vivo su Marte, eccetera. Bianchini, parlo. E' molto vicino a Fratelli d'Italia. Allora, perché non lo dice? Se fa politica, facesse politica, facciamo le cose corrette e diciamo tutto. Vabbè, questo però adesso prendiamo l'accordo. No, 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 perché è importante. Prendiamo il senso della protesta. A me mi fermano per raccontare le cose. A me scrivono. Io ti dico una cosa, Mirta. Fermo, fermo un attimo, Gianluzio. Scusami, ho aiutato oltre 1200 persone che mi hanno scritto ad avere i contributi, ad avere i 600 euro. In questi nove mesi di disastro, perché purtroppo stiamo vivendo un disastro. Scusi, l'ha aiutato e ha fatto bene. Ma lei fa il parlamentare, non è la Caritas. Cioè, è ovvio che se uno viene da lei... A compilare la domanda bene, Davide. A compilare la domanda bene. A fare le cose bene per avere i soldi. Ma fate la domanda in modo... Però, scusi, allora, lei è stato generosissimo, ci conosciamo da anni, è molto bravo e viva. Però, fate le leggi in modo semplice. Non è che uno deve venire da Gianrusso per compilare... No, Davide, però... Un modulo, per carità. Tu sai bene, però, che c'è chi si approfitta, perché sulla legge della Cassa Integrazione molte aziende, perché era fatta in modo semplice, se ne sono approfittate e l'hanno chiesta quando loro dovevano averla. 3 miliardi di euro, eh? 3 miliardi di euro. Poi torniamo ad Asenaldi, ovviamente. Un attimo, perché abbiamo tante cose...